come osi come osi tu come osate voi due e pensare che noi ci preoccupavamo che aurora sarebbe rimasta sola e ora gai è tornato volete sistemarmi con gai cos'hai fatto alla mano sono stata punta da un ape al di là del muro sei andata al di là del muro al di là del muro ok ha giudicato voi perché sentite solo la voce e non potete vederlo molto carina direi dai grazie marco guadagno